La politica alla Regione è nel merino delle opposizioni per le decisioni sui progetti da finanziare con i fondi del PNRR e i fondi strutturali. A parlare il senatore Luciano D'Alfonso, del PD, presidente della Commissione Finanze del Senato, e il deputato di Italia Viva, Camillo D'Alessandro. Li ha ascoltati Silvana Ferrante. All'Abruzzo toccheranno sui 3 miliardi di euro dalla prima ripartizione del PNRR. Più ci saranno possibili ancora 3-400 milioni di euro per le economie di risulta. Bisogna evitare che i fondi destinati dal PNRR all'Abruzzo vadano a finire alle grandi centrali di finanziamento nazionale. Si rivolge alla Regione Abruzzo il senatore Luciano D'Alfonso che motiva il suo intervento con la lettera che il presidente Marsiglio ha indirizzato ai suoi dirigenti, chiedendo di scegliere una priorità tra gli interventi proposti. E' una lettera che non si può restringere al rapporto tra loro e né voglio dire che questo svela la non conoscenza dell'Abruzzo. Mettiamoci insieme per fare una graduatoria di obiettivi strategici per i quali io voglio dare una mano. Discippo di 19 progetti del Masterplan già rifinanziati ma accantonati dalla Regione, parla il deputato di Italia Viva, Camillo D'Alessandro. Dei fondi definanziati da Marsiglio su opere strategiche, nel momento in cui il governo ha rimesso a disposizione quei soldi che erano stati tagliati, Marsiglio invece di rifinanziare le opere già tagliate ci ha fatto altro, presentato 218 problemi di qualche centinaia di migliaia di euro l'uno, cioè una sorta di marchettificio al governo regionale, la cosa è gravissima. Una lotta, quella di D'Alessandro, fatta propria dai consiglieri Marianna Scoccia del gruppo Misto e Sandro Mariani di Abruzzo in Comune che sul tema hanno preannunciato richiesta di consiglio regionale straordinario.